Silia Redo presenta gli highlights della partita Squinsano-Arset-Labor-Grottaglie, valida per la quindicesima giornata del campionato di prima categoria Girone B. Il Grottaglie conquista la settima vittoria consecutiva battendo in trasferta lo Squinsano 3-0 e guadagna il secondo posto in gradatoria insieme al Mottola e all'Eurotuglianese, a due punti dalla capolista Conversano. Vittoria meritata da parte dei ragazzi di M. Marinelli che in campo si sono dimostrati superiori agli avversari sia da un punto di vista tecnico che tattico. Lo Squinsano ha resistito mezz'ora, poi è caduto sotto i colpi di un Grottaglie deciso e pratico. Il primo brivido corre però dietro la schiena dei Biancazzurri, quando Caliolo, al minuto 8, batte una punizione che taglia tutta l'area ospite senza che nessuno la tocchi. Al quindicesimo Zito, dal limite dell'area piccola, si trova sulla testa un'invitante palla crossata dalla sinistra da carbone. La deviazione di testa del centrocampista grottagliese è però troppo centrale e il portiere para con facilità. Al ventitresimo punizione di Galeando dal limite dell'area e bella risposta di Pino che devia in angolo la sfera destinata all'incrocio. Due minuti più tardi tiro dalla distanza di Cantoro e respinta del portiere. Al trentunesimo, vantaggio dell'Arset Labor. Sanarica mette al centro, Cantoro di testa fa ponte e Galeandro, ben appostato sul secondo palo, mette comodamente in rite. Al trentanovesimo, raddoppio del Grottaglie. Batti e ribatti in aria e Cantoro risolve scaricando con forza la palla in rite. In apertura di ripresa, i Biancazzurri mettono in ghiaccio il risultato. Carbone viene strattonato in aria e il signor Cianci di Bari assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Galeandro che spiazza Pino, siglando la sua seconda doppietta sagionale. Al trentunesimo, appeso crea scompiglio in aria avversaria e mette sui piedi di Gigantiello un pallone d'oro. Il giovane attaccante del Grottaglie calcia a botta sicura, ma centralmente, consentendo al portiere la respinta. Al trentacinquesimo, palla al limite per Zito che fa sponda per Gigantiello. Pronto il tiro e parata in due tempi di Pino. In pieno recupero, ultima azione Grottagliese. Palla nello spazio per Masella che mette al centro, Contrani che arriva con un attimo di ritardo sul secondo palo. Vittoria limpida del Grottaglie, che di partita in partita acquisisce la necessaria maturità. Una squadra cambiata rispetto ad inizio di stagione, nella mentalità e nella convinzione. Un atteggiamento sicuramente pagante ed efficace. Tifosi in festa e società soddisfatta. Tifosi in festa Tifosi in festa Tifosi in festa Tifosi in festa